Siamo con il dottor Fares, qual è la sfida dell'Healthcare in modo di liberare la frattività del settore per la competitività in Europa? Innanzitutto credo che ci sia un problema di accesso alle cure, di accesso al farmaco, di godimento equo e diffuso e universale dei sistemi di assistenza sanitaria, e di accesso al farmaco. In particolare occorre considerare che l'Europa si è resa conto di questa necessità di superare le barriere, di agevolare lo sviluppo e la competitività, di promuovere la ricerca e di tutelare gli investimenti attraverso una serie di misure che dalla strategia del 2020 per l'agenda farmaceutica europea fino alle proposte di modifica dei regolamenti e delle direttive come la raccomandazione sugli antimicrobici del 26 aprile del 2023, ma proprio in questa direzione. Superare le barriere, eliminare gli ostacoli e contenire l'accesso tanto alla sanità digitale, quindi adeguando le regole alla tecnologia e allo sviluppo scientifico, quanto rendere i farmaci accessibili, sicuri, adeguati anche per le malattie rare, per i bisogni clinici insoddisfatti e tarare il sistema anche regolatore di protezione dei brevetti e della proprietà direttuale, alle esigenze di maggior sviluppo di nuovi farmaci sempre più accessibili a tutti i cittadini europei senza distinzione di localizzazione geografica e naturalmente condizioni economiche e sociali. Grazie! Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti! Grazie! Grazie! Grazie!